Un buon venerdì a tutti! Ascoltiamo il Vangelo che la liturgia ci regala anche oggi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello? Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Il testo che ascoltiamo oggi ci traghetta ancora dentro questa dimensione umana molto complessa che sono le nostre relazioni, che è il nostro stile di vivere le relazioni. E sembra suggerirci l'Evangelista Luca che sono decisive. C'è il luogo dove noi mettiamo in atto la nostra fede. È all'interno della comunità umana, è all'interno delle relazioni con gli altri uomini. Io posso mostrare, se vivo del Vangelo, non semplicemente se questo resta una teoria nella mia mente, ma se provo a renderlo stile con cui condivido la mia esistenza con gli altri uomini. L'amore non può essere una cosa semplicemente teorica, ma deve diventare stile relazionale per essere vero. E allora sofferniamoci brevemente sui due passaggi chiave che mi sembrano interessanti del Vangelo di oggi. Prima di tutto, può un cieco guidare un altro cieco? No, che non lo può fare. Il rischio è che cadano tutti e due da un fosso. Un discepolo non è più del maestro. Aspetta a diventare guida. Aspetta a proporti nel guidare altri. Prima, mettiti alla scuola del maestro. Quando ti sarai messo alla scuola del maestro e sarai ben preparato, allora potrai guidare qualcuno. L'istinto nostro di trovare subito soluzioni. Pensate che roba? Siamo sempre capaci di trovare soluzioni per i problemi degli altri e quasi mai per i nostri. Non so se vi capita, ma quando sento la storia di qualcuno, vabbè dai, è chiaro dove sta il problema. Eh, sì, è peccato che spesso non siamo fulmini nel trovare i nostri di problemi. Calma, mettiti alla scuola del maestro. Lascia che sia il maestro a illuminarti sulla tua esistenza. Allora potrai essere capace di aiutare anche altri a trovare la strada senza banalizzare e senza semplificazioni. Interessante poi l'immagine della pagliuzza e della trava perché vai a togliere la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non vedi la trave che è nel tuo. Attenzione, ci sta che questo testo è una denuncia all'ipocrisia. Tu fai cose mastodontiche, commetti cose incredibilmente sbagliate e poi vai a fare le pulci al tuo fratello, vai a fare le pulci e vorresti colleggerlo su cose minuziose. È vero, ci sta anche questa lettura di questo brano. Però forse c'è anche un'altra prospettiva da cui va considerato. Non è che semplifichi un po' troppo le cose. Cioè degli altri, dico quello che dicevo già nel primo momento, ti sembra subito di arrivare alla soluzione del problema. Ma sì, ma guardalo lì il problema. Ma sì, ho capito benissimo dove sta la tua difficoltà. Ma guarda che tu non lo vedi, il problema degli altri, se prima non hai fatto i conti con la tua di complessità. Possibile che tutti i problemi fuori di te sono semplici, ma dai questo qua, che problemi vuoi che abbia? E invece dentro di te i problemi sono enormi. Togli prima la tua di trave. Fai i conti con le complicatezze della tua vita e allora ci vedi bene per vedere anche le complicatezze della vita dei fratelli senza banalizzare. A volte noi pensiamo che gli altri sono estremamente semplici e noi siamo subito ipercomplessi. I problemi degli altri, ma dai, è così facile la chiave di volta del suo problema. Guarda la trave nel tuo occhio. Cioè, guarda il peso dei nostri meccanismi umani che a volte ci si muovono dentro. E allora ci vedrai bene per aiutare anche il fratello. Ma altrimenti, se non hai fatto i conti con la tua trave, vedi semplicemente problemi banali attorno a te. Vedi pagliuzze. Non vedrai mai le travi che anche gli altri portano invece nel loro cuore, no? Quanto è faticoso, no? Quando parli con una persona e non ti ascolta. Tu provi a dirgli un tuo grosso problema e questa persona non ti ascolta. E minimizza e dice, eh, sapessi io. E inizia a dirti cose che dici, ma sapessi io. Guarda che è banale questa cosa che mi stai dicendo rispetto a quello che ti raccontavo. Ma se non hai fatto i conti con le tue travi, vedi solo pagliuzze. Se non hai fatto i conti, con quanto è complesso il meccanismo maligno che può entrare anche nel nostro cuore, vai a banalizzare i problemi degli altri. Se non hai fatto i conti, di quanto può essere difficile il dolore, eh, ti sembra che gli altri alla fine hanno buon tempo. Invece guarda prima i tuoi meccanismi faticosi e allora vedrai bene negli altri e non scambierai le travi per pagliuzze e comprenderai che siamo solidali dentro la fatica di conventirci al Vangelo che non è mai facile per nessuno. Grazie per aver seguito questo momento di meditazione e auguro a tutti di cuore una buona giornata e un buon venerdì.